Il computer è disponibile. Poi dietro c'è la garziera che non assomiglia a padre Pio come adesso. Guarda qua, la programma 101, ragazzi, questo qui è il mito. Un gruppo di pionieri italiani che 15 anni prima di Steve Jobs e Bill Gates ha aperto la strada alla più grande rivoluzione del nostro tempo. Ovunque andiamo abbiamo con noi un computer, abbiamo gli smartphone, ma l'idea di un computer nella camera dei bambini, in cucina, accanto al tuo letto, era veramente una profezia visionaria, 50 anni fa. Da qui è cominciata tutta la storia di Personal Computer.